Fateci vedere la meraviglia di quest'oggi. Facciamo una ricetta in 4 minuti e con 4 semplici ingredienti. Una ricetta ricchissima di biotina. Ci serviranno delle uova, degli spinaci, del latte e il formaggio che più ci piace. Io ho scelto la scamorza affumicata. Se vogliamo possiamo aggiungere anche curcuma e pepe nero. Allora Gianluca, che tra l'altro è un cuoco giovanissimo, ha appena finito l'alberghiero e già sta facendo uno stage per imparare la cucina della longevità. Ha rotto le uova in un recipiente. Le andiamo poi a sbattere con il latte parzialmente scremato. Per una ricetta senza lattosio possiamo scegliere il latte parzialmente scremato senza lattosio. Ricordiamoci che questa comunque è una ricetta senza glutine. Sbattiamo le uova in modo molto semplice e andiamo ad aggiungere gli spinaci che abbiamo precedentemente tagliato finemente su un tagliere. Aggiungiamo curcuma e pepe nero perché sono due spezie amiche della linea che ci aiutano a non prendere peso. Quindi un pizzichino nelle nostre ricette ci sta sempre bene. Andiamo quindi ad amalgamare bene questi semplici ingredienti. Ricordiamoci che la biotina è una vitamina amica della bellezza e della forza dei nostri capelli. È presente nelle uova ma è importante cuocere molto bene le uova perché la biodisponibilità, ovvero l'assorbimento di questa vitamina, sia davvero totale. Anche gli spinaci ne contengono un bel po' e adesso un piccolo trucchetto. Andiamo, proprio per assicurarci la perfetta cottura delle uova e quindi la biodisponibilità della biotina, a bagnare della carta da forno. La bagniamo, la strizziamo e ci foderiamo la nostra pentola dove andiamo a cuocere in questo modo, come a creare una camera di cottura. Andiamo a cuocere la nostra frittatina. Quindi foderiamo di carta da forno, andiamo ad inserire il composto. Bagnare la carta da forno ci aiuta però a stenderla bene sui lati della pentola. L'umidità della carta da forno consentirà una cottura totale e omogenea senza che sia eccessiva dell'uovo. Quindi una cottura totale ma non troppo spinta verso la coagulazione dell'uovo. Andiamo quindi a coprire con la scamorsa che abbiamo precedentemente grattugiato. Quindi creerà quella bella crosticina croccante sulla nostra frittata. E poi coperchio e 4 minuti di cottura a fuoco basso. E dopo 4 minuti ecco qua il risultato. Questa è una frittata per due porzioni, super saziante, super golosa e anche super leggera. Allora ricordiamo Chiara tutti gli ingredienti. Gli ingredienti sono per due porzioni, tre uova, 100 g di spinaci freschi, possiamo usare anche quelli surgelati se vogliamo, 30 g di scamorza, 50 g di latte, curcuma e pepe nero a piacimento.